ciao eccoci quindi passare alla seconda video lezione in cui leggeremo alcuni testi dall'allegria e possiamo partire subito leggiamo adesso alcuni dei testi seguendo l'ordine proposto dal libro e sempre con l'indicazione di quali siano le pagine dove il testo compare appunto sul vostro manuale questa lirica si chiama in memoria ed è dedicata a un amico magrebino che ungaretti conobbe negli anni di parigi narra il dramma di questa oscura figura ridotta a suicidarsi perché non era riuscito a sentirsi realmente francese ma sentiva anche di non appartenere più alla sua gente di origine si chiamava mohamed sheab discendente di emiri di nomadi suicida perché non aveva più patria amò la francia e muto nome fu marcel ma non era francese e non sapeva più vivere nella tenda dei suoi dove si ascolta la cantilena del corano gustando un caffè e non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono l'ho accompagnato insieme alla padrona dell'albergo dove abitavamo a parigi dal numero 5 della rue des carnes a passito vicolo in discesa riposa nel campo santo di vry sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera e forse io solo so ancora che visse nella lirica si possono isolare alcuni elementi intanto la traslitterazione del nome che effettivamente è scritto come si pronuncia in italiano questo infelice ragazzo discendente di emiri quindi forse addirittura di nobile famiglia araba che non aveva patria perché non si sentiva francese e non si sarebbe nemmeno più sentito a suo agio nella tenda nel desert dove si ascolta la lettura del corano e si beve il caffè dal verso 22 il poeta ricorda di aver accompagnato mohammed sheab nell'ultimo viaggio dall'albergo dove abitavano insieme evidentemente sino al campo santo il campo santo di vry nominato al verso 29 in un'area di parigi che sembra sempre riduce da una chiassosa fiera mostrandone le sue vie come le tracce di una festa ormai finita e nei versi conclusivi amaramente il poeta ricorda che dell'infelice vita di mohammed forse lui soltanto serba memoria vale la pena ricordare che nonostante la poesia tratti un avvenimento degli anni parigini di ungaretti è stata scritta sul carso logvizza è una delle località di area giuliana dove fu combattuta la prima guerra mondiale e la data è appunto il 1916 cioè si tratta del ricordo elaborato negli anni della trincea ecco prima di passare alla lettura di altri componimenti di guerra di ungaretti e alla trattazione delle raccolte successive vorrei che ci soffermassimo un attimo sulla attualità di questo componimento in memoria si tratta in effetti del delicato tema dell'integrazione questo mohammed sheab evidentemente che addirittura ha accolto accettato di cambiare nome di chiamarsi marcella alla francese non è riuscito a integrarsi e ha perso in qualche modo il senso di appartenenza che lo caratterizzava in origine l'immagine evidentemente un po fiabesca un po da mille e una notte della tenda dei beduini nel deserto accompagnata dal ritmo delle preghiere ispirate al corano è ovviamente vagamente favolosa ma rappresenta bene quel tipo di estraneità quel tipo di diversità da cui il povero ragazzo suicida proveniva e che la francia accogliente progressista moderna degli anni dieci non è riuscito in nessun modo a supplire e quindi mohammed sheab è stato in qualche modo costretto a questo suicidio e amarissima è la riflessione del poeta che dice appunto forse di tutta la sua esistenza mi ricordo io soltanto l'hanno scordato i suoi emiri nomadi da cui lui proveniva e l'hanno scordato i francesi che comunque non l'hanno accolto come vedete anche se è passato praticamente un secolo il tema è di scottante attualità e potremmo magari riflettere e su questo sviluppare un ragionamento magari anche per scritto ma proseguiamo con la lettura dai componimenti dell'allegria e veniamo alla lirica che dava il titolo originale alla prima raccolta di ungaretti che ora figura nell'allegria e trovate sul libro di testo a pagina 227 il porto sepolto vi arriva il poeta e poi torna alla luce con i suoi canti e le disperde di questa poesia mi resta quel nulla d'inesauribile segreto anche questa fu scritta e rielaborata nelle trincee del carso mariano è un'altra località da quelle parti il porto sepolto è appunto il luogo dove il poeta torna alla luce con la sua poesia dopo essersi immerso dopo aver recuperato ciò che è prezioso ma ecco che tornato in superficie non gli resta in mano che quel nulla d'inesauribile segreto cioè soltanto un'ombra un eco per così dire di quanto di meraviglioso le acque celano il poeta quindi come mediatore non sempre adeguato non sempre sufficiente tra l'ineffabile il divino il sovrannaturale rappresentato dalla purezza della poesia e coloro che per suo tramite possono leggerla leggiamo ora fratelli che figura sempre nell'allegria sul libro di testo a pagina 228 di che reggimento siete fratelli parola tremante nella notte foglia appena nata nell'aria spasimante involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità fratelli il componimento qui è veramente incentrato sulla parola chiave che è appunto quella ripetuta più volte che compare anche nel titolo riconoscere di condividere la medesima crudele sorte al fronte è un elemento prezioso quasi una forma di conforto un tenero bocciolo una foglia appena nata dell'uomo che riconosce la propria fragilità tra le poesie di guerra veglia che trovate sul libro a pagina 230 è probabilmente la più nota la situazione è simile a un episodio contenuto in uno dei romanzi più famosi ispirati al medesimo periodo niente di nuovo sul fronte occidentale cioè la forzata convivenza nel caso del romanzo con un moribondo nel caso della lirica di ungaretti addirittura con un cadavere ma il confronto tangibile materiale con la morte fa rinascere la speranza e in quella notte di dolore ungaretti scrive poesie d'amore un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al pienilunio con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio ho scritto lettere piene d'amore non sono mai stato tanto attaccato alla vita il testo non richiede sostanzialmente parafrasi sono evidenti le scelte di vocaboli dal suono duro aspro massacrato digrignata la congestione delle mani si tratta di un cadavere orribile a vedersi eppure di fronte a quell'orrore ecco che ungaretti si abbandona al sentimento e in particolare scrive lettere piene d'amore si può notare al verso 15 come venga isolato l'avverbio tanto un esempio significativo del valore universale della parola perché è evidente che ciò che per il poeta è tanto può esserlo in maniera differente per me che leggo ed ecco quindi che l'isolamento proprio materiale sulla pagina di questo termine chiave apparentemente un elemento secondario va nella direzione della magia della parola assoluta della quale parlavamo in precedenza si può anche notare che in questo caso il luogo in cui la poesia fu composta praticamente quasi al natale del 1915 è sostanzialmente un obiettivo militare cioè uno di quelle indicazioni che si trovavano sulle carte militari cima 4 quasi altrettanto celebre san martino del carso dedicato a un piccolo paese della zona devastato dai bombardamenti all'epoca più che altro devastato dai colpi di cannone trovate la lirica sul libro di testo a pagina 242 di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto ma nel cuore nessuna croce manca è il mio cuore il paese più straziato anche in questo caso il luogo in cui la poesia fu stesa è un obiettivo militare chiaramente valloncello dell'albero isolato non è il nome di un paese in questa lirica ungaretti fa ricorso alla tecnica dell'analogia ma il componimento è significativo perché in qualche modo si offre al lettore una chiave di interpretazione le case sono a pezzi non è rimasto che qualche brandello di muro e molte persone che il poeta ha conosciuto non ci sono più ma ecco che dal verso 9 le due realtà in qualche modo si sovrappongono e le croci che materialmente dovrebbero stare nel cimitero del paese si ritrovano infitte in realtà nel cuore del poeta sovrapponendo analogicamente i due elementi e quindi il poeta può concludere la lirica proponendo una sorta di identificazione completa tra il cuore e il paese tant'è che è il suo cuore il paese più straziato dai bombardamenti a pagina 246 sul vostro libro di testo trovate un'altra celebre lirica di ungaretti in realtà popolare presso gli studenti per la sua brevità tant'è che spesso non se ne colgono le potenzialità il testo è tutto lì mi illumino d'immenso due versi il cui significato però è implicitamente spiegato dal titolo siamo di fronte cioè a uno di quei componimenti e nell'allegria ce n'è più d'uno in cui il titolo del componimento che non è ripreso o ispirato al primo verso è parte integrante del significato stesso cioè il significato dei versi si comprende solo alla luce del titolo intanto si può notare dal punto di vista formale che il poeta ricorre a un verso decisamente poco diffuso nella nostra tradizione lirica si tratta di due ternari con la contrapposizione tra il primo che è sdrucciolo e il secondo che è piano l'intuizione poetica sta tutta nel fatto che di fronte a una mattina in cui il sole sorge e illumina in maniera confortante rincuorante la campagna circostante in realtà non viene descritto il cielo ma la reazione soggettiva del poeta non è appunto la volta celeste a illuminarsi ma il poeta stesso io mi illumino di fronte allo spettacolo del sole che sorge il componimento fu scritto in realtà da questa località santa maria la longa che è di nuovo uno dei luoghi del carso su una cartolina postale quindi il poeta si ricordò di questi versi e li inserì nella raccolta poi a stampa poco più lungo soldati sul libro di testo a pagina 248 è nuovamente uno di quei componimenti in cui il titolo è assolutamente imprescindibile per la comprensione del testo che recita si sta come d'autunno sugli alberi le foglie sottolineando evidentemente quanto sia effimera la vita dei soldati al fronte che rischiano di perdere la vita così come d'autunno una foglia facilmente si stacca da un ramo ma appunto l'analogia tra la condizione dei soldati e quella delle foglie diventa chiara solamente mettendo in relazione il titolo del componimento con i versi stessi altra lirica ambientata nella natura del carso è i fiumi questo componimento è un po più lungo sul libro di testo lo trovate alle pagine 238 239 e ve ne affido la lettura quindi leggete voi e cercate di capire appieno che cosa dice il testo di questa lirica nella quale sostanzialmente il poeta racconta di essersi immerso nelle acque dell'isonso il fiume del carso e come in un bagno sacrale cercate nel testo i riferimenti a questa dimensione quasi religiosa il bagno che ungaretti si concede dopo una giornata di compattimenti finisce per essere una sorta di lavacro purificatore ebbene in quelle acque il poeta ritrova i fiumi che hanno segnato la sua vita e cioè il serchio un corso d'acqua della toscana terra della quale era originaria la famiglia che poi si trasferì ad alessandria d'egitto il nilo il fiume della propria infanzia e la senna il fiume della maturità raggiunta quello che gli mostrò alcuni aspetti torbidi della vita e i turbamenti della gioventù così si conclude questa parte antologica e adesso poche annotazioni su alcune delle raccolte successive vi ricordo come avevo già segnalato all'inizio della prima video lezione che questa scelta così minimale di ridurre ungaretti sostanzialmente all'esperienza della poesia di guerra è abbastanza condivisa dal vostro libro non è naturalmente l'unica possibile ma in questa situazione di emergenza ce la faremo andar bene passiamo quindi alle altre raccolte di ungaretti nel 1933 ungaretti pubblica una nuova raccolta di poesie sentimento del tempo il cui tema fondamentale è proprio l'idea del tempo che passa il momento poetico non è soltanto affidato all'attimo illuminante come era nell'allegria secondo quanto teorizzato né il porto sepolto ma piuttosto un processo che fluisce al posto del carso e della desolazione della guerra è centrale nella raccolta roma come luogo della memoria leggete sul libro di testo a pagina 253 la spiegazione di questo particolare aspetto della capitale nel dopoguerra ungaretti pubblica il dolore avevamo già detto che si tratta per lo più della rielaborazione dei lutti che lo colpirono e in particolare molte poesie ricordano il figlio giovinetto scomparso altro tema è quello dell'orrore per la guerra e dal dolore leggiamo questa lirica non gridate più la trovate sul libro di testo a pagina 262 cessate d'uccidere i morti non gridate più non gridate se li volete ancora udire se sperate di non perire hanno l'impercettibile sussurro non fanno più rumore del crescere dell'erba lieta dove non passa l'uomo il componimento esorta a chiudere psicologicamente i dolori della guerra cessate di continuare ad uccidere i morti cioè di rievocare il dolore di rievocare la colpa non è più il momento di levare la nostra voce perché dovremmo cercare di ascoltare il sussurro flebile che ci viene da chi non c'è più e che naturalmente è costituito dalla testimonianza e dal ricordo è una voce appunto estremamente flebile chi muore non fa più rumore del crescere dell'erba termine di confronto abbastanza tradizionale per indicare ciò che assolutamente non fa rumore ma l'erba cresce soprattutto là dove non passa l'uomo l'uomo porta morte ed esolazione cerchiamo allora di non continuare a recriminare e lasciamo dormire in pace i morti ascoltando ciò che dalla loro debole voce ancora ci può arrivare si può notare che in questo componimento ungaretti è tornato all'uso tradizionale della punteggiatura quindi l'esperienza di aggressiva rottura degli elementi tradizionali portata avanti nell'allegria è ormai definitivamente superata così si conclude la nostra trattazione su giuseppe ungaretti in conclusione facendo riferimento a quella sorta di introduzione che avevamo proposto prima di trattare i grandi poeti del novecento vi segnalo vi faccio notare che ungaretti rappresenta quella linea novecentista quella linea che appunto supera e questo vale soprattutto per l'allegria supera le convenzioni tradizionali la metrica tradizionale l'approccio tradizionale alla poesia da questo tipo di esperienza rielaborando alcuni aspetti dell'oscurità di certi aspetti delle analogie che ungaretti utilizza nascerà l'ermetismo aggiungerei però che non è corretto parlare di ungaretti come un poeta ermetico è piuttosto appunto il faro culturale a cui la generazione successiva farà riferimento tra l'altro soltanto per una parte della carriera per dar vita a questo movimento che prenderà il nome di ermetismo con ciò buona visione e buon lavoro arrivederci